Giovedì 20 settembre 2020 Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Consueto di ogni mattina con Mattino 6 La rassegna stampa della nostra rete per la lettura dei quotidiani oggi in edicola Come sempre, come di Consueto, partiamo dalle prime pagine di Centro Messaggero, il quotidiano La Città L'edizione di Pescara del Centro, alle mie spalle la vedete inquadrata, il titolo principale riguarda un fatto Ecco qui il titolo di apertura, un fatto accaduto ieri all'ospedale civile, vigilante spreso a Morsi Pescara, la guardia giurata, aggredita da un tossico dipendente In alto, notizie importanti che riguardano le autostrade A24 e A25, pedaggi ridotti a partire da ottobre I sindaci in attesa del colloquio, vedete nella foto con il ministro Toninelli Ma come detto e come si deduce anche da questo titolo, le cose si stanno evolvendo per il meglio Dopo questa mobilitazione dei primi cittadini Ancora la politica in primo piano, ma per un altro aspetto proprio prettamente politico Perché oggi ci sarà il vertice del centrodestra a Roma per decidere sui candidati E soprattutto su chi dovrà esprimere tra Lega, Forza Italia o eventualmente anche i fratelli d'Italia Il candidato presidente Riforma Fornero, pensione anticipata, tre le ipotesi sul tappeto Andiamo a centropagina, andiamo a centropagina per parlare di sport Di Monachello che ha rilasciato un'intervista al centro Annunciando di volersi fermare a Pescara Di voler restare per diverse stagioni in biancazzurro Monachello, autore del gol a Brescia Che ha permesso al Pescara di guadagnare in terra lombarda Un punto pesante, rete segnata a pochi secondi dal novantesimo Siamo ancora a Pescara, torniamo alla cronaca La protesta ieri in piazza dinanzi il municipio I lavoratori delle mense che chiedono il pagamento degli stipendi E poi nuova inchiesta, avviso di garanzia al sindaco di Farindola Poi a Montesilvano, strage di pesci per i liquami nel fiume Saline Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro Radioterapia, patto tra asle e privati Chieti operazione da 25 milioni per rifare il reparto E nuovi macchinari A Lanciano parcheggio selvaggio alle feste di settembre Rimosse 147 auto Andiamo a Chieti, gli asili nido non aprono più I bimbi a casa Vasto, villa sempre aperta Festini, nella notte ad Ortona mercato coperto Oggi tornano le bancarelle E poi la cronaca ci porta da Tessa Rissa con Mazze e Mannaia Cinque arresti Si affrontano in strada due bande rivali Ma i residenti chiamano i carabinieri Prima pagina di Teramo del centro Ladro ucciso Processo biss All'agente chiesto un nuovo rinvio a giudizio Per la sparatoria di Castelnuovo A Teramo la cerimonia con danze e poesie Per la riapertura della villa comunale E sempre nel capoluogo aprutino Tante persone per l'ultimo saluto Per l'addio a Maria Scacchioli A Pineto Invece il comune chiede lo stato di calamità Dopo la grandine, roseto, le strisce blu Fruttano 300 mila euro Andiamo a Giulianova Poi vedete il titolo più in basso Di taglio basso Peculato, ex brigadiere alla sbarra Giulianova è accusato di aver rubato in caserma Droga messa sotto sequestro E siamo alla prima pagina di Avezzano L'Aquila e Sulmona Sempre del centro Aziende comunali tre in deficit L'Aquila Conti Rosso per centro turistico Ama e EGSA Bene, la FM Sindaco Biondi Questa sarà la città della conoscenza Siamo sempre all'Aquila Con la notte europea dei ricercatori Ci spostiamo nella Marsica ad Avezzano Donatelli insiste Il mercato non va spostato Sempre ad Avezzano Consorzio Costi delle bollette fuori controllo Andiamo in Valle Peligna Sulmona Masciangeli Alunni In cerca di una sede E poi la fondazione Carispac Torna in centro L'Aquila martedì prossimo Il rientro a Palazzo dei Combattenti A nove anni Dal terremoto Siamo alla prima pagina Dell'inserto Abruzzo del messaggero Pedaggi stop agli aumenti Vedete il titolo di apertura Toninelli e Sindaci Rincari del 12,9% Sospesi da ottobre Fino al 31 dicembre Andiamo in alto Questioni di cuore Flavia Bellissima Giovane Pennese E la nuova fiamma Di Flavio Briatore E poi Teramo Michele Placido E Pamela Villoresi Al premio di Venanzo E poi lo sport Con il Pescara di Pillon E con il tecnico In vista della gara di sabato Con il Foggia Allo stadio adriatico alle 15 Prepara la rivoluzione Attese Le novità Informazione Con il possibile Probabile Innesto dal primo minuto Di Canutè Siamo alla cronaca Sempre a Pescara In questo caso Ospedale Guardia Giurata Presa a Morsi Accaduto ieri E vedete le immagini Un'immagine Dell'ingresso Del pronto soccorso Dell'ospedale civile E poi Maxi Rissa Colpi di mannaia Cinque in manette Nella zona Frentana E poi Visco Padoan E Legnini Al vertice Sull'economia Andiamo avanti Per vedere La prima pagina Del quotidiano La città Vedete Anche in questo caso Come sugli altri giornali L'apertura è dedicata Alla questione Dei pedaggi Della 24 A 25 Neutralizzati Gli aumenti Della 24 Fino a dicembre Si pagherà La tariffa Del 2017 La linea Data dal ministro Toninelli Davanti ai sindaci Vedete poi La fotonotizia C'era una volta La villa comunale Il parco cittadino Restituito Al decoro Dopo anni E poi Vedete Di spalla Altri titoli Enrica Salvatore Unica donna Abruzzese In Cassa Depositi E Prestiti Ma unica donna In assoluto In questo caso Giulia Nuova Coca Scomparsa Ex Carabiniere Carabiniere A processo E poi Villoresi E Placido Al premio Di Venanzo I due attori Saranno sul palco Del cineteatro Comunale Poi Un richiamo Di sport Lega Pro Avvi di campionato Difficili Mastrilli Noi più arrabbiati Della San Benedettese Parla il giocatore Teramano Alla vigilia Della gara Teramo San Benedettese Che si giocherà Domenica E che vedrà di fronte Due squadre In cerca Del riscatto Dopo la sconfitta Nel primo turno Di campionato Teramo sconfitto A Bolzano Dal sud Tirol San Benedettese Clamorosamente in casa Per 2 a 0 Dal Renate Parleremo dopo di sport Vediamo ora I quotidiani Nazionali Le prime pagine Partendo dal Corriere della Sera Deficit Sfida Sul 2% Giorgetti Si può sforare Con proposte serie Di Maio Preme Tria Resiste Il ministro Nel Mirino Dell'esponente Del Movimento 5 Stelle E poi I giochi di Milano E Cortina Parla Fontana Il leader Scusate Il presidente Della regione Lombardia Se il governo Non dà i soldi Faremo come Per Expo E poi vedete Questa notizia Con corredo di foto Il divieto di sedersi Salverà Venezia Questa la domanda Che si pone Gian Antonio Stella Del Corriere della Sera Siamo a Repubblica Il piano Giulio Irpef Con rincariva Pensioni Tagli Sopra I 4.500 euro E poi lo sport In primo piano Vedete questa foto Le lacrime Di Cristiano Ronaldo Espulso ieri Sera Nel corso Della gara Di Valencia Dove la Juve È passata Per 2-0 Ma c'è stato Il cartellino rosso Per il giocatore Portoghese Che salterà Le prossime Due gare Di Coppa Dei Campioni Siamo al fatto Quotidiano Truffa olimpica Milano E Cortina Titola Il quotidiano Il fatto I soldi del governo Arriveranno E poi Andiamo A centropagina Ora il Nazareno Resuscita Al CSM Destra E PD Vogliono Il Renziano Andiamo avanti Per vedere Un altro Quotidiano Si tratta Del manifesto Di Maio Prendiamo i soldi Dal debito Manovra Reddito di cittadinanza E abolizione Della legge Fornero Senza risorse E poi vedete Questo titolo Con il corredo Della foto Di bassa lega Vedete poi Il sommario In basso Salvini Apre il forno Di Berlusconi E si accorda Sul presidente Della RAI E sulla pubblicità Di Mediaset Cacciato Dalla porta Marcello Fuo Rientra Dalla finestra Della commissione Di vigilanza Forza Italia Si astiene In attesa Del vertice Del centrodestra Di oggi A Palazzo Graziolia Tra l'altro In questo vertice Del centrodestra Si parlerà Anche di candidature Per le prossime Regionali In Abruzzo Siamo alla prima pagina Del messaggero nazionale Trincea Sul deficit Ritorchi IVA Tria fissa Come tetto Per il disavanzo L'1,8% Del PIL E poi Giochi La doppia proposta Del Cone Appendino Prova a rientrare In gioco Il sindaco Di Torino E poi Flat tax Sui redditi alti Non solo Ronaldo Sempre più Paperoni Scelgono L'Italia E poi vedete Questa foto Auto sui passanti Paura In Vaticano Il guidatore Sbanda sul bagnato Famiglia Polacca Finisce In ospedale Siamo a Libero L'agenzia delle entrate Piena di Farabutti Scrive il quotidiano Di Vittorio Feltri Troppi agenti Del fisco Scrive Libero Approfittano Della normativa Vessatoria E incomprensibile E poi Vedete quest'altro titolo Accanimento Contro Formigoni Sette anni in cella In appello Aumentata La richiesta Per Formigoni Andiamo avanti Il giornale Di Maio Come Renzi Non paga Stato sempre più lento A saldare I debiti E imprese Strozzate Vediamo anche Il mattino di Napoli Manovra Lira dei 5 stelle Al sud E poi La cabala Uscito il 18 Per la smorfia E il sangue Il prodigio Di San Gennaro E il lotto Bacia Napoli Vediamo anche Il quotidiano La verità Ma quanto ci costa La busta di Renzi Ce l'avevano garantito La legge del PD Che rende obbligatori I sacchetti prodotti Dall'azienda Vicina al giglio magico Non peserà Sulle tasche Dei consumatori Otto mesi dopo Si scopre Che non è così Vediamo anche Sole 24 ore Il titolo Che riguarda In questo caso Andiamo Sulla parte alta Della pagina Resa dei conti In carige Testa a testa Per il board E poi Riciclaggio Ombre russe Su Danx Bank Vediamo anche La stampa di Torino I grillini Via I tecnici Del tesoro Nel mirino Anche il ragioniere Dello Stato Fa resistenze Sul bilancio Di Maio dice Servirà Un po' Di disavanzo E poi Vedete Questa foto Con Il corredo Del titolo In alto A Torino I contadini Che cambiano Il mondo Con il cibo Apre il salone Del gusto Con In inserto Che regala Il quotidiano La stampa Siamo al tempo Piccoli Mussolini In Europa Il commissario Dell'Unione Europea Moscovisi È preoccupato Dagli epigoni Del duce In Italia Si chiede Il tempo Accontentato Due nipoti Pronti a sbarcare A Strasburgo E una In Campidoglio Il secolo Il secolo d'Italia Rai Riecco Fo Abbiamo visto Anche dai titoli Precedenti Che Marcello Fo È pronto A rientrare In gioco Per la Rai Vedete poi Altri titoli In basso Giorgetti Avvisatria Nessuno Sicuro Del posto Poi 40.000 Algerini A casa Merkel Dura Tutti zitti E poi Tangenti Eni Escarone Ok Milano Assoluzione Piena Dalla quarta Sezione Penale Di Milano Per i dirigenti Eni Siamo al quotidiano Di Genova Il secolo XIX Più misure Per aiutare Genova Resta il nodo Della ricostruzione Questo è il titolo Di apertura Che riguarda Ovviamente Anche La ricostruzione Del Viadotto Decreto Indirittura D'arrivo Le scelte Sui poteri Del commissario Non dissipano I dubbi Sui tempi Vediamo anche Il quotidiano Della conferenza Episcopale Italiana Avvenire Senza protezione Via la tutela Umanitaria Per i richiedenti Asilo Naufragio A largo Della Libia Oltre 100 morti E poi Vediamo in basso Pensione Si ritorna All'ipotesi Dei 65 anni Verso un'intesa Con 5 miliardi Per Lega E Movimento 5 Stelle Tria Resiste Al Pressing In questo caso Del Movimento 5 Stelle Questo era Avvenire L'ultimo quotidiano Nazionale Che abbiamo preso In esame Possiamo tornare Al centro Ripartire da pagina 2 Si parla Del cantiere Previdenza Di pensioni Abbiamo visto Poco fa Un titolo Da avvenire Pensioni Quota 100 L'ipotesi In campo Tre misure Per anticipare L'uscita 62 anni E 38 Di contributi 64 E 36 E uno scivolo Di 5 anni Pagato da Stato E imprese E poi intanto A proposito Dell'anticipo Pensionistico Ape sociale In soffitta Resta l'ape Volontario Fino al 2019 E intanto Ci sono concorsi Ci sono corsi Per i dipendenti pubblici In particolare Per l'Inps Entro il 4 ottobre Le domande Per la formazione Universitaria Finanziata Dall'Istituto Sindaci Al Ministero I sindaci Abruzzesi Per la questione Dei pedaggi autostradali Tolti gli aumenti L'annuncio Del ministro Toninelli Dal 1 ottobre Al 31 dicembre Si pagherà meno L'olio bloccato All'ingresso Del di Castero E noi Su questa vicenda Andiamo a vedere Dunque Il primo servizio Di oggi Proprio per parlare Di questo incontro Che c'è stato a Roma E degli sviluppi Che hanno portato Al blocco Dei pedaggi Vediamo Sotto il Ministero Delle Infrastrutture A Roma Per chiedere Più sicurezza Su A24 E A25 Un minor costo Del pedaggio Sono circa Un centinaio I sindaci E gli amministratori Di Lazio Ed Abruzzo Che assieme Ad associazioni Sindacati Hanno sposato Questa battaglia Istituzionale Contro gli aumenti Operati Da strada Dei parchi Per la tratta Pescara Roma E Teramo Roma Aumenti Dicono A cui non corrisponde Un servizio adeguato E una manutenzione Ottimale Della rete Il Ministro Toninelli Ha poi incontrato Una delegazione Di sindaci E amministratori Assicurando Che saranno sospesi Gli aumenti Dei pedaggi Su A24 E A25 Nell'ultimo trimestre Dell'anno Ho spiegato Ai primi cittadini Ha aggiunto Toninelli Qual è l'impegno Senza precedenti Che il Governo Sta portando avanti Allo scopo Di ridiscutere Con i gestori autostradali Tutte le concessioni In termini di costi Da sostenere E servizi resi A chi viaggia Quindi viene accolta La nostra prima Richiesta È quella del blocco Degli aumenti In vigore Dal primo gennaio 2018 Quindi si ritorna Alle tariffe In vigore Fino al 31 dicembre 2017 Quindi meno Il 13% circa Poi nel frattempo Loro stanno lavorando Per il nuovo PEP Con strada di parchi Abbiamo chiesto Di essere presenti Ma si creerà Un tavolo Informativo Con noi Quindi noi abbiamo chiesto Di essere comunque Informati su tutto Perché l'obiettivo È quello di creare Nel primo gennaio 2019 Delle tariffe Differenti Quindi delle tariffe Eque E aggiornate Sulla sicurezza Ci darà informazioni Di volta in volta Perché anche questo Oggetto del PEP E quindi Da adesso a dicembre Dobbiamo essere informati Se non ci chiamano loro Abbiamo detto Che comunque chiameremo noi Andiamo avanti Regionali Le pagine di cronaca Nazionali Per le scuole Parlando di caccia La protesta La protesta Davanti al comune Ieri Si parla di Mense scolastiche L'ira delle lavoratrici Le dipendenti Dei centri di cottura Chiusi dopo le intossicazioni Siamo senza stipendi I genitori Chiedono lo stop Al tempo pieno Vedete Ieri Le immagini Della protesta Dinanzi Palazzo di città Ha seguito Questa vicenda Per noi Alfredo Primante Andiamo a vedere Il primo Di due servizi Con Proprio la protesta Delle lavoratrici Delle mense Siamo d'accordo Sul fatto Che Nel momento In cui abbiamo Un dato Su cui lavorare Tutti quanti Ci dobbiamo riferire A quel dato Siamo d'accordo Che se fossero 3.000 iscrizioni Non stiamo parlando Di nulla Perché ce le deve aumentare Siamo d'accordo Che se fossero 1.500 Qualcuno Se le deve ridurre Le ore Allora Posso portare avanti Questa tesi Voglio i numeri Lei lo può fare Come l'avvocato Nardello Noi l'abbiamo già fatto Come il Filcans E il Tux Siamo in attesa Di una risposta Ok Adesso la vado a sollecitare In questo momento Saltato il tavolo Di trattativa Ieri pomeriggio I lavoratori Che si occupavano Del servizio mensa Pescara Quando era in campo Lati Cheerfood Bioristoro Oggi è stromessa Dal comune Dopo la vicenda Che a giugno Ha portato in ospedale Centinaia di ragazzi E bambini Con gastroenteriti Sono scesi in piazza Per protestare Contro una riduzione Dell'orario Di lavoro Che per loro È inaccettabile La Camst Di Bologna Seconda classificata Nell'appalto Mense Ha proposto Infatti Di passare Dalle 430 ore Precedenti A 390 Affinché Il servizio Sia economicamente Sostenibile Anche in previsione Del fatto Che molte famiglie Potrebbero non fidarsi Più dei pasti Dispensati a scuola Secondo Wiltux E Filcams CGL La proposta Va respinta Al mittente Perché comporterebbe Un taglio del salario Già ridotto Dei lavoratori Che mediamente Guadagnano Tra le 300 E le 500 euro E inoltre Un peggioramento Della qualità Del servizio È inaccettabile È il servizio Ai bambini Cosa diciamo Dove il servizio Ai bambini Di cui tutti Ci preoccupiamo A chiacchiere Perché A chiacchiere Perché Dirigenti Politici Si dovrebbero Preoccupare Di come I loro bambini I bambini Di questa città Vengano trattati Con una riduzione Di quell'orario Diciamo Che sarebbero Stati trattati Malissimo Ma vado oltre Ieri c'è stato Un altro incontro Dove c'è stato Un rilancio Di ore Come il mercato Delle pulci Da 350 L'azienda Camst I nati Ha offerto 390 Noi diciamo Assolutamente no Il comune Si vuole prendere Questa responsabilità Che lo faccia Non ha bisogno Del timbro Notarile Dei sindacati I sindacati Quindi Chiedono La mediazione Del comune Di Pescara Affinché Convinca La camsta A tornare Ai livelli Di orario Precedenti Per poi Eventualmente Valutare Soluzioni Di riduzione Nel caso In cui I pasti Dovessero Drasticamente Calare Noi al comune In questa fase Chiediamo Che il passaggio Di appalto Sia in dolore Perché i lavoratori Hanno già Sofferto Il fatto Di non aver Lavorato A giugno Abbiamo dato La disponibilità Successivamente All'ingresso Dell'azienda Di fare Tutte le valutazioni Rispetto al numero Dei pasti Perché È evidente Che c'è Una preoccupazione Sul numero Dei pasti Alla luce Di quanto Accaduto Ma noi Su questo Come organizzazione Sindacale Abbiamo già Dato la disponibilità Perché qualora Ci fossero Ci fosse Un numero Di pasti Inferiore Che produrrebbe A quel punto Un naturale Subero Saremo disponibili Ad attivare Tutti gli ammortizzatori Sociali previsti Dunque È stato Chiamato in causa Il comune Di Pescara E il nostro Alfredo Primante A tal proposito È andato ad ascoltare Proprio il vice Sindaco Antonio Blasioli Noi Noi Capiamo bene Le ragioni Dei lavoratori Che hanno Dei contratti Molto bassi Poche ore Sicuramente Per prestare Servizio All'interno Delle menze Però dobbiamo Essere seri Nei confronti Della città E dobbiamo Dire le cose Come stanno Il comune In questo momento C'ha un ruolo Soltanto di mediazione Tra l'altro Non dovuto Perché la seconda Classificata La CAMST Ci ha chiesto Di entrare A determinate Condizioni Naturalmente Deve rispettare Gli stessi Patti e condizioni Quindi gli stessi Dovrà rispettare La stessa qualità Che veniva servita prima E comunque La qualità prevista Nel capitolato Non c'è scritto nulla E nulla deve Riguardo al rispetto Delle ore dei lavori Rispetto alle 431 ore Giornaliere previste La CAMST Inizialmente Si è presentata Con 350 ore Giornaliere Quindi una bella riduzione Da applicare Soltanto a quei lavoratori Che avevano Più di 10 ore Di contratto settimanale Viceversa In un secondo incontro Dopo un'opera Di mediazione Del comune Sono aumentate le ore Da 350 a 390 Da 390 a 431 C'è quindi una riduzione Di ulteriori 40 ore Che spalmate Su tutti questi 100 dipendenti Sono circa Due ore a settimana Ma È una situazione Potenziale Provabile Diciamo Ma non definitiva Perché ci sono Delle persone Che sono in età pensionabile Delle persone Che potrebbero decidere Uno in particolare L'ha già deciso Di andare in pensione Sono persone Che hanno Un numero di ore adeguate Il che potrebbe significare Che questi lavoratori Non perdono assolutamente Le ore Quindi in questo momento Io mi auguro Che la politica Possa svolgere Ancora questo ruolo Di mediazione Di induzione Sia nei confronti Della seconda classificata Sia nei confronti Dei lavoratori Ad accorciare ancora Un po' di più Le distanze Che ci sono E a permetterci Di riprendere il servizio Le 2.500 famiglie E le 5.000 E i 5.000 Bambini Che frequentano Le menze scolastiche Di Pescara Sono il nostro primo Ed unico obiettivo Se l'accordo Non dovesse essere raggiunto Che cosa accade? Il comune ha De fronte a sé Nel momento Che viene formalizzata La rinuncia Da parte della seconda Un'unica possibilità Andare alla terza Che è la serenissima E chiedere Che la terza Rispetti le stesse condizioni Ma la terza Ci potrebbe chiedere Anche di subentrare Alle stesse ore di lavoro 350, 390 Ma non voglio fare numeri In questo momento Della seconda E non chiederci Di trovare Un accordo sindacale Il che significa Che a questo punto Il comune Sarebbe fuori da tutto La terza classificata Farebbe un accordo Direttamente Con i lavoratori Sottoponendo Un contratto Con delle ore di lavoro A queste persone Che lavorano Alle menze E poi loro hanno La possibilità Di accettare o meno Restiamo sulle pagine Del centro Cambiamo argomento Verso le elezioni Comunali a Pescara Si voterà a maggio 5 Stelle Alessandrini Pronto a fare il sindaco La consigliera annuncia Sono disponibile A correre per guidare la città Sabatini Conferma Di voler lasciare il comune L'altra consigliere Ricca Sabatini Non ha ancora deciso Il da farsi Il terzo consigliere comunale Del movimento 5 Stelle Massimiliano Di Pillo Intanto I giovani di Forza Italia Visitano le imprese Progetto per rilanciare Le aziende E l'esponente Riccardo Padovano Anche della FIB Parla di frigitorie Di pesce Sulle banchine Del porto Saranno realizzati Dei chioschi Per il consumo Sul posto Dei prodotti ittici Il comune Dal via al bando Se ne è parlato ieri In questa conferenza stampa Dove era presente Lo stesso Riccardo Padovano Ma anche L'assessore Al commercio Del comune di Pescara Giacomo Cuzzi La cronaca Non c'è pace Per l'ospedale E' credita una guardia giurata Tutto è accaduto In pieno giorno Tra visitatori e personale Che gravitavano Nella zona del bar L'uomo è stato morso A una mano Da una tossicodipendente Che ha tentato la fuga In ascensore E' stata poi bloccata E' denunciata Dagli agenti Del posto fisso Della polizia di Stato Mercato etnico Bocciato anche Dagli operatori Confcommercio Ci sarà oggi Anche una manifestazione Nel pomeriggio A Pescara L'addio della città Al pittore Baldacci Al funerale Saranno presenti Tanti artisti Sono stati presenti I funerali Che ci sono stati ieri Presenti artisti Ed esponenti Della cultura Ma nessun politico E torna in mare La tartaruga Di Ludovica Guardia Costiera E Adricesta E Adricesta Con il centro Cetacei E poi la solidarietà Perché questa sera Al cinema Circus Di Pescara Ci sarà lo spettacolo Per raccogliere fondi Per i malati Di Sla Andiamo avanti Andiamo avanti In basso Torna in mare La tartaruga Di Ludovica Guardia Costiera E Adricesta Con il centro Cetacei Di Pescara Emergenza sociale Siamo ancora Nel capologo Adriatico Via Rigopiano Ancora liti E pestaggi Con l'intervento Della polizia E poi Ti butto il caffè Bollente in faccia Ma la compagna Chiama i carabinieri È stato Disposto Un provvedimento Da parte Dell'autorità giudiziaria Nei confronti Del convivente Di questa donna Si tratta Di un 27enne Pescarese Andiamo avanti Domenica c'è il Matteotti Di Vieti Da domani sera Si comincia in Piazza Duca Per l'allestimento Delle tribune Sul percorso Dei ciclisti Autovietate Fino a Montesilvano Colle Abbiamo parlato tanto Del Matteotti Anche ieri Con il servizio Nel Tg Ma ne parleremo Molto di più Parleremo Questa sera In maniera diffusa Della settantunesima Edizione del Trofeo Matteotti Nel corso Della trasmissione Vero in diretta Questa sera alle 21 Dei nostri studi Con Jacopo Forcella E Luciano Rabbottini I luminari Dell'udito A raccolta A Pescara Congresso All'Aurum Domani e sabato Si affronteranno Tutte le problematiche Dell'orecchio Andiamo avanti Siamo a Montesilvano Saline Strage di pesci Forse uccisi Da uno scarico Abusivo Migliaia di cefali Finiscono sulle sponde E coprono Il fondo E poi altra notizia Via Marti di Ungheria Aria privata pulita dal comune Ma a spese Del proprietario Addio al pianista Lackert Maestro d'avanguardia Nato a Varsavia Il grande compositore Ha insegnato al conservatorio Di Bruxelles L'accademia musicale Aveva 80 anni Messaggi di cordoglio Da tutto il mondo Ci spostiamo A Francavilla L'altra faccia Di Francavilla al mare L'urlo Della zona alta Borgo Senza servizi Residenti e negozianti Strade rotte in curia Siamo abbandonati C'è la risposta Del sindaco L'attività dei privati Dice può rilanciare L'intero Quartiere In basso Ancora Francavilla al mare Rifiuti riprendono i controlli Dopo le proteste I vigili verificano Il rispetto Del conferimento Della differenziata Siamo alla pagina Della provincia di Pescara Nuova inchiesta Avviso di garanzia Al sindaco di Farindola Lacchetta Denunciato da tre consiglieri Di minoranza Per gli atti Del piano di emergenza Dopo la tragedia Di Rigopiano Andiamo a centropagina Federico Disabilità E talento A Tormina Il 23enne di Rocca Morice Non sa né leggere né scrivere Ma esegue al piano Brani operistici Senza spartito Siamo a fondo pagina Partiamo da Scafa Il 29 si terrà La marcia longa In notturna L'evento incluso Nel circuito Wisp In memoria del sindaco Sansovini E poi a Pianella Scuola di Subuteo Aperta A tutti Proseguiamo con un'altra pagina Che ci porta A Chieti Parliamo di sanità Operazione da 25 milioni di euro Nuovo polo oncologico Tra asle e privati Accolta La proposta Di un raggruppamento Di imprese Di Bologna San Giovanni Tiatino Ora parte la gara Per i lavori Volo nel cantiere di Suor Vera Grave un operaio Accaduto ieri mattina A Brecciarola L'operaio trasferito Poi all'ospedale di Pescara Dove si trova Ricoverato in prognosi Riservata Siamo ad Atessa La cronaca rissa Con mazza e mannaia Cinque arresti Atessa Bande rivali Si affrontano in strada I residenti danno l'allarme E scattano le manette Si indaga Su un regolamento Di Conte Andiamo a vedere dunque Il servizio Su questa vicenda Cinque albanesi Sono stati arrestati Dai carabinieri Della compagnia di Atessa Sono accusati Di rissa aggravata E resistenza Pubblico ufficiale Intorno a luna della notte In località Piana Lafara Nei pressi di un bar Si sono affrontati Due gruppi Uno di Altino E l'altro di Atessa Si sono picchiati Selvaggiamente Con mazze da baseball Da cricket E perfino Una mannaia Allertato il 112 I militari Hanno cercato Di disperdere Duellanti In seguito Risultati ubriachi Tutti hanno opposto Resistenza All'intervento Dei carabinieri Due degli albanesi Feriti Hanno fatto ricorso Alle cure mediche Dell'ospedale di Atessa Riportando lesioni E ferite lacero contuse La prognosi Rispettivamente Di 10 e 7 giorni L'udienza di convalida Degli arrestati Posti ai domiciliari È prevista Nelle prossime ore Al tribunale di Lanciano L'indagine è coordinata Dalla procura Sono in corso Approfondimenti Da parte Dei carabinieri Per accertare Le motivazioni Che hanno scatenato La rissa Restiamo in Frentania Le prossime ore Poi torneremo in studio Per la seconda parte Di mattino 6 Eccoci di nuovo in studio La seconda parte Di mattino 6 Ci porta Le pagine Di Teramo E Teramo Provincia Partiamo dal Capoluogo Anzi Dalla provincia In questo caso La sparatoria di Castelnuovo Uccise un ladro A processo Bisse alla gente Dopo il primo allunnamento La procura chiede Un nuovo rinvia giudizio Per il poliziotto Che fece fuoco Su un albanese E poi Concussione Slitta La sentenza Per il cantoniere Andiamo In basso Mariani Unasciagura Se la stireria chiude Campi Il consigliere regionale Accoglie l'appello Della CGL E contatta Il presidente Vicario Della regione Lolli Per una trattativa Con la Ferdi Sparita la cocaina Sequestrata L'ex brigadiere Va a processo Siamo a Giulianova La procura L'accusa di peculato Perersesi impossessato Di droga custodita In caserma L'uomo ha sempre respinto Ogni addebito A gennaio La prima udienza Con il rito abbreviato Giulianova Pesca abusiva In area portuale Scattano multa E sequestro E poi Il ristorante di Giulianova Bora Bora Da lunedì Demolizione parziale A una parte abusiva Il proprietario Ho pagato Dice Per quello spazio Tortoreto Un altro semaforo Sulla statale Adriatica Il comune chiede Lo stato di calamità Per la grandinata Siamo a Pineto Avviso pubblico Per la segnalazione Dei danni Sindaco Verrocchio Così abbiamo stime precise E vedremo Cosa fare Scuola di Silvi Rocchio Il pino pericolante Va tagliato E poi andiamo a centropagina Ancora Silvi Vulte Previsto Un milione e mezzo Di introiti La stima fatta dal comune Che però conta Di poter utilizzare Soltanto 480 mila euro E poi Fondi per la frana Di Casoli Il merito della regione Mazzocca e Monticelli Replicano Agli amministratori Atriani Siamo all'Aquila Le società del comune Centro turistico Ama GSA Conti in rosso Le tre partecipate Sotto di almeno Un milione Nel bilancio 2017 Ma tengono Azienda farmaceutica ASM E SED L'Orsa Peppina Spasso Con i suoi cuccioli La famigliola Filmata l'altra sera Tra i vicoli Di Roccapia Questa volta Nessun danno A Pollai E Ovili Proseguiamo Allergie nei bambini All'ospedale San Salvatore Dell'Aquila Record di interventi E poi Ci spostiamo Più a centropagina Salta il consiglio Sulla cittadinanza A Letta Dopo la spaccatura In commissione L'ex vice di Berlusconi Da Forfè Cimoroni Contrari All'onorificenza In basso Insulti a Salvini Il ministro in aula L'Aquila Il vice premier Testimone Al processo Per diffamazione A Coccia Con l'aiuda Proseguiamo Siamo arrivati Però alle pagine Dello sport Allora Possiamo lasciare Per il momento Il centro Passare a vedere Le pagine interne Del quotidiano Il messaggero Nel suo inserto Abruzzo Poi passeremo A vedere Le pagine Della città E chiuderemo Con lo sport Pagina 2 Dell'inserto Abruzzo Del messaggero Il nodo Autostrade A 24 A 25 I pedaggi Costano di meno Fino al nuovo anno E poi Export Bilancio positivo Con i trasporti La crescita Di Pescara È straordinaria E siamo proprio A Pescara Stop al tempo pieno Soluzione Ponte Per il caso Menze Abbiamo visto prima Il servizio di Alfredo Primante Il comune A tavola A metà ottobre Con l'incognita Della terza impresa Vediamo altre notizie In basso Nonno ascoltami Parte domenica Da Pescara La campagna nazionale In difesa dell'udito E Lino Banfil Testimonial D'eccezione Visite gratuite Ed esami In 33 piazze italiane Fino al 28 Ottobre E poi La patente Scade a dicembre Ma la visita Per il rinnovo È fissata Alla fine Di gennaio Il mercatino etnico Va fermato Siamo sempre a Pescara La FIVA Commercio Contraria Al progetto Poi la cronaca Tossico dipendente Aggredisce vigilante In ospedale E poi Schiaffia la moglie Davanti ai figli Interviene il giudice Violenze in famiglia Dopo la denuncia I carabinieri È stato allontanato Dall'abitazione Con provvedimento Del magistrato Vedete poi In basso Altre notizie Qualità all'avanguardia Allo stabilimento Trieste Arriva il bollino Internazionale Poi in scena Anduccio E Vincenzo Olivieri Risate solidali Al Circus Per aiutare Paola Mastrangelo E tutti i malati Di SLA Questa sera L'appuntamento Alle 20 e 30 Al Cinema Circus E poi in mare La tartaruga Lulli Nel ricordo Di Ludovica Andiamo avanti Vittoria Ecco la pennese Neofidanzata Di Briatore 24 anni Un fisico perfetto La loro relazione Ormai Ufficiale E un regista Pennese Racconta L'Alzheimer In un cortometraggio Andiamo poi a vedere Gli scenari europei Al Florian di Pescara Festival Con otto Spettacoli A Montesilvano Invece il comune Ripulisce Un'area privata Siamo all'Aquila Belvedere Il ponte Sospeso Tra archistarra e abbattimento Il tema è stato affrontato Nella seduta Della commissione Comunale Territorio E poi Letta Diserta il consiglio E preferisce Beverly Pepper E poi Parlando del piano Regolatore Il PD Va all'attacco Di Deramo E dice Dov'è il piano Regolatore Andiamo A centro pagina Come sul centro Anche sul messaggero Ritroviamo la notizia Delle partecipate Alcune partecipate Comunali Dell'Aquila In rosso E poi A fondo pagina Il bullo Di Monte Reale Un settantenne Scatta Il processo Andiamo a vedere La pagina L'altra pagina Che riguarda Il capologo di regione Torna alla grande festa Della scienza Il 28 settembre In centro Si terrà La notte Dei ricercatori Nel programma Anche uno show Di Giobbe Covatta All'emiciclo Esperimenti Dibattiti E confronti Nel cuore della città Il sindaco Biondi La conoscenza È uno dei quattro asset Di sviluppo E intanto Per quanto riguarda I trasporti I sindacati Insistono Urgente Fondere Ama In tua Andiamo più in basso Madonna Fore Progetto per valorizzare Il bosco a San Giuliano Flaviano Loreto 40 anni Per la medicina Il personaggio Di cui si parla In questo articolo E poi Anno decimo La possibilità Di ricostruire Di ritrovare Il senso del tempo In questo articolo Che trovate Nella parte bassa Della pagina Siamo alla pagina Invece Di Avezzano Sul Mona Partiamo da Avezzano Il caso Cipollone Scuote Il municipio Ricorso vinto Altare Ripropone Vecchi Veleni Contro De Angelis Berdecchia Di Pangrazio E Eligi Tornano ad attaccare La giunta E poi Avezzano Donatelli Commercianti Non sono Marionette E a Roccapia Orsa E cuccioli Avvistati Nel centro Del paese Andiamo a centro pagina Partiamo da Sul Mona Ancora L'ambulanza Palazzo San Francesco Marsica Acqua Santa Croce Ora Colella Chiede i danni Agli operai A Cocullo Cibo Vietato I gatti Animalisti Si rivolgono Al Tar E poi Dopopartita Di Avezzano Cesena Contusi Anche quattro Agenti Siamo a Chieti Palazzo d'Acciaio Alla Berardi Si firma il contratto Per i lavori Intanto il capoluogo Perde altri uffici A gennaio Via l'agenzia dei monopoli Intesa fra provincia E agenzia del demanio L'artistico Andrà nella sede Dello scientifico E poi precipita Dalla scala Nelle cantiere E grave incidente Sul lavoro E poi ancora Successo Al festival Del creato Con ben 2500 persone A fondo pagina Si parla di sanità Tecnologie Alla ASL Partenariato tra pubblico E privato Investiti 24 milioni di euro Per una nuova piastra Due bunker Di radioterapia E la risonanza Magnetica Siamo alla pagina Di Lanciano Vastoltona Rissa colpi di mannaia Cinque arresti Adatese Abbiamo visto prima Il servizio E poi nasconde 160 dosi di cocaina Negli slip Preso alla stazione Di San Vito Marina E poi Dramma lavoro Niente terza offerta Per la Honeywell Al tavolo del ministero Domani Si terrà Un'assemblea In basso A Torre Bruna Tir si ribalta Con il carico Un'elica alta 55 metri Mentre a Dortona Riapre il mercato Di via Siamo a Teramo Cigni Parco Giochi E libri Così la villa Torna a vivere La riapertura Con i bimbi Delle scuole Dopo l'atteso Intervento Di restyling Parliamo di cultura Al premio Di Venanzo Tanti ospiti Di eccezione Tra cui Michele Placido E Pamela Villoresi Andiamo Più in basso Mazzette permessi L'istruttoria E' chiusa Si parla del caso Anas E poi Invece in basso La cronaca giudiziaria Coca rubata Dalla cassaforte Rito abbreviato Per Vincenzetti Impiegata Aggredita Al Bancomat Siamo a Giulianova Si tratta di una dipendente Comunale Appena uscita Dall'ufficio Immobilizzata Da un ragazzo E minacciata Con un taglierino Ancora Giulianova Tre giorni Di eventi Per battere I tumori Nella seconda edizione Di Giulia In rosa E poi Elezioni regionali Forza Italia Mastro Mauro Dice il partito di centrodestra Non sarà mai eletto Ci spostiamo in Val Vibrata Martinsicuro Cartotecnica Posti a rischio Scioperano 46 lavoratori Al Badriatica Nuova scuola Fermi Riprendono i lavori E poi Tortoreto Restando in Vibrata Strada statale 16 Un semaforo All'incrocio Infine A Pineto Grandine Distrutto Il 30% Il 30% Di olive E uva Siamo arrivati Alle pagine Dello sport Dobbiamo attendere Ancora Per parlare Di sport Perché andiamo A vedere insieme Le pagine Interne Del quotidiano La città Partiamo Dalla cronaca Regionale La politica Nuovo allarme Sui conti Della sanità regionale La consigliera regionale Tra l'altro Candidata Presidente Per il Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi Parla di possibile Commissariamento L'assessore Alla sanità Paolucci Smorsa Chiacchiere Senza fondamento E poi Il segretario Regionale Del PD Renzo Di Sabatino Attacca il governo Sul super ticket E poi In basso Adottato il piano Regionale Per le cave Abruzzesi Andiamo avanti Caro pedaggi Le tariffe Tornano ai livelli Di un anno fa Da ottobre fino a dicembre Neutralizzato L'aumento del 13% Scattato A gennaio Del 2018 Siamo a Teramo La villa comunale E tornata ad essere Il lago dei cigni L'ex orto botanico Cittadino Tirato a lucido Per l'ennesima volta Come simbolo Del rispetto Dei beni pubblici Andiamo a vedere Un'altra pagina Pagina 7 Addio a Maria Una giovane Grande donna Ieri Nella chiesa Della Madonna Delle Grazie Funerali Della 33enne Stroncata Da una malattia Proseguiamo A pagina 8 Salvatore Entra in cassa Depositi E prestiti La presidente Della fondazione Etercas Nominata Nel comitato Di supporto Sotto la presidenza Di Quaglia E poi La politica In casa Del centrodestra Federico Carboni Lascia il direttivo Di Fratelli D'Italia Andiamo a vedere Un'altra pagina Del quotidiano La città Che è pagina Nome Un comune Più collegato Con il suo carcere L'iniziativa Lectus Diventa un'occasione Per discutere I problemi Di Castronio Su tutti Strada E trasporto Pubblico Andiamo a vedere Pagina 10 Si parla Di caccia Con i cacciatori Che si dividono Sul ricorso Altar I presidenti Provinciali Di Tressigle Terramane Prendono le distanze Dalla decisione Di Ermanno Morelli E poi andiamo a Campli Il consigliere regionale Sandro Mariani Scende in campo Per i dipendenti Della stireria Taglio basso Della pagina Si parla Del raduno Di auto storiche Per sostenere I territori Colpiti dal terremoto Alvia oggi La manifestazione Che porterà Sul nostro territorio Gli equipaggi Provenienti Da diverse Regioni Italiane Andiamo a vedere Un'altra pagina Del quotidiano La città Che ci porta In Val Vibrata Partiamo Da Tortoreto Il comitato turistico Studia le tariffe Per l'introduzione Della tassa Di soggiorno E poi Le due facce Della viabilità Vibratiana Nuovi asfalti Lungo la bonifica Del salinello Ma la segnaletica È carente In basso Raccolta differenziata Anche per le aziende agricole Avviato ieri mattina Nella sede Poliservice Da Pepe Dai rappresentanti Del settore Siamo a Giulianova Ex carabiniere A processo Per la coca scomparsa Il militare di Giulianova Accusato di procurato Avrebbe prelevato La droga Sequestrata Per consumarla Successo A Giulianova Poi per il trofeo Del Rotary Organizzato Con il circolo Nautico Migliori E a Mociano Sant'Angelo L'ultimo saluto Marcattili Dipendente del comune Estorico Portiere Di calcio La politica Ancora Giulianova Mastromauro Come Luciano D'Alfonso Per Costantini Tiene in ostaggio La città Senza avere Possibilità Alle regionali In basso Si parla In questo articolo Del progetto Di servizio Civile Finanziato Dal comune Sono stati Selezionati Cinque giovani Volontari Per i sentieri Del sapere E della bellezza Ci spostiamo Sulla costa Del Terramano Partiamo da Silvi Piano triennale Da 20 milioni Di euro Il consiglio comunale Approva la pianificazione Delle opere pubbliche E poi Incidente mortale Autista del tir Indagato per omicidio Stradale ad Atri E poi Andiamo a vedere In basso Sempre ad Atri Si riaccende la disputa Sui fondi Per la frana Di caso Lidi Atri A Silvi e Pineto Chiesto lo stato Di calamità naturale Per la grandinata Del 2 settembre scorso Siamo arrivati Alle pagine Della cultura Uno romanzo Pensando a D'Annunzio Sigismondo Isotta Così Maselli Conclude Idealmente La trilogia Malatestiana Del Vate Possiamo aprire dunque La pagina Dello Sport In quest'ultima parte Di mattino 6 Partiamo Dalla gazzetta Dello Sport In alto Il recupero Di Serie A Che si è giocato ieri Apre Simone Chiude Caprari Tra l'altro Come molti di voi Sapranno Ex giocatore Del Pescara Sandoria Fiorentina Finisce 1-1 La Champions League Juve da 10 Più forte anche Dell'arbitro Resta in 10 Al 29esimo Per l'espulsione assurda Di Cristiano Ronaldo Che esce in lacrime Ma poi spiana il Valencia Con due rigori di Pjanic E Sex Ne para 1 Icardi è tornato Ora punta Quota 110 gol Con l'Inter Dopo la prudezza Nella partita Di Champions League E in casa Milan Iguain Specialista Dell'Europa League Vuole tornare Anzi Vuole proseguire A segnare Dopo il gol Segnato Nella gara Di campionato Nella gara Di questa sera Scusate il gioco di parole Che si giocherà In Lussemburgo Alle ore 21 Con il Doudelange Guidato da un interista E a proposito Di Champions League Ieri sera Non è andata bene Alla Roma Che ha sbattuto Su Isco E Bale 3 a 0 Per il Real Madrid Vediamo Tra l'altro I risultati Delle gare di ieri Nei quattro gruppi Di Champions League Ajax IK Atene 3 a 0 Benfica Bayer Monaco 0 a 2 Shakhtar Offenheim 2 a 2 Manchester City Olimpique Lione 1 a 2 Real Madrid Roma 3 a 0 Vittoria Pilsen CSKA Mosca 2 a 2 Young Boys Manchester United 0 a 3 Valencia Juventus Come detto 0 a 2 Il Corriere dello Sport Anche senza Cristiano Ronaldo Espulso Dopo mezz'ora Esce in lacrime Ma la Juve Non si scompone Roma Tassa pagata Di Francesco Cade al Bernabeu Sotto i colpi Di Isco Bale E Mariano E poi Una notizia Che riguarda Poi la ritroveremo Anche più avanti Il caos Che da tempo Ormai Regna Nel campionato Di Serie B Un po' In generale Nel nostro calcio Perché il CONI Riporta In Serie B La Virtus Entella Che però Ha già giocato Una gara Di Serie C Vincendo 3 a 1 In casa Del Gozzano Vedremo cosa Deciderà La federazione Intanto guardiamo La prima pagina Di Tutto Sport Mitici Il riferimento È alla Juventus Che passa Per 2 a 0 A Valencia Siamo Allo sport Di casa nostra Abbiamo visto Sui quotidiani nazionali Le notizie che riguardavano le coppe Pescara Parla Monachella Io attaccante Giramondo Voglio fermarmi A Pescara La punta di proprietà Dell'Atalanta Siamo forti E tra noi C'è grande armonia E intanto Zeman L'esonero di Cittadella Gli costa 3.000 euro Il collegio arbitrale Sanziona il Boemo Che non era rientrato Con la squadra Dalla trasferta In Veneto Ricorderete Questa vicenda Lo scorso anno E come detto Il CONI Ridà la Serie B Allentella Il Tar Boccia Se stesso Il collegio di garanzia Accoglie il ricorso dei Liguri Che però hanno già esordito In Serie C Il Tribunale Revoca i decreti Che accoglievano Le istanze Di Ternana E Provercelli Ma in casa Bianca Azzurra Si pensa La gara Di sabato Con il Foggia Pilon Lancerà Canutè E Brugman Potrebbe giocare Mezzala Potrebbe anche rientrare Campagnaro Che è tornato ad allenarsi Regolarmente Parliamo del Teramo Il Teramo Per quanto riguarda La prossima gara Di campionato Ma anche di mercato Perché Stefano Amadie Un passo dal Pineto Il mediano Bianco-Rosso Verso la rescissione Per firmare il nuovo accordo Con la formazione Del presidente Brocco Che milita Nelle Girona F Del campionato Di Serie D Coppa Italia Di eccellenza I risultati Dele gare Giocate ieri Chieti Cupello 2-1 Angolana Acquessapone 0-1 Nereto Pontevomano 2-3 Spoltore Amiternina 1-1 Vediamo in basso La Coppa Italia Di promozione San Gregorio Ovidiana 3-0 Raiano River Chieti 1-4 Fossa Cesia San Salvo 1-1 Lanciano Casolana 2-0 Castelnuovo Montorio 2-0 Fontanelle Monrodoro 2-1 Parliamo di basket Questo rosetto Mi piace Person E Pieric Super L'allenatore D'Arcangeli Traccia Un bilancio Degli Sharks E poi Serie B Di basket L'amatori Domina Palestrina Il tecnico Coach Raiola Parla di Buone indicazioni E poi Acqua e Sapone Color Max In TV Diramato Il calendario Dele gare Parliamo ovviamente In questo caso Del Calcio A5 Vediamo lo sport Sul messaggero Pescara Pillon Sarà rivoluzione Il mister Pensa Alla variante Di centrocampo Per esaltare Canute E il talento Brugman E intanto Il portiere Farelli Si presenta Squadra Di qualità In basso Il basket Sharks Cimorosi Si coccola D'Arcangeli Patrona Rosetano Molto soddisfatto Del lavoro Fatto dalla squadra Fino ad oggi Siamo Alla seconda pagina Del quotidiano Il messaggero Passo indietro Del presidente Dell'Avezzano Paris Aveva annunciato Le dimissioni Poi E invece Da queste dichiarazioni Dice Resto per amore Messa da parte L'amarezza Il presidente torna Ad immergersi Nel suo habitat Naturale Scrive il messaggero Coppa Italia Chiedi rimonta Ok il Pontevomano Abbiamo visto prima I risultati E poi La mezza pagina Del giovedì Come di consueto Sul messaggero Che riguarda la Wisp Partiti campionati Wisp Di Serie A E Serie B Vedete tutti I risultati Le classifiche E le notizie Si guarda il derby Di domenica Con il rosso-blu In basso Atletica L'ecologica Giulianova Fa incetta Di medaglia I campionati Regionali Di atletica Siamo giunti Al termine Così Dell'appuntamento Di oggi Di giovedì 20 settembre Con mattino 6 Che tornerà domani Come sempre Puntuale Alle 8 Io ringrazio Claudio Di Giacomo In regia Ringrazio voi Come sempre Per averci seguito E vi do appuntamento Alle 14 Per la prima edizione Del nostro telegiornale E poi questa sera Alle 21 Come detto anche In precedenza In diretta Dai nostri studi Con Veloc Con Jacopo Forcella Luciano Rabbottini E i loro ospiti Si parlerà soprattutto Del trofeo Matteotti Di ciclismo Che si correrà Domenica A Pescara Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti